Una manifestazione, la rassegna del buon pescato che si tiene a Siracusa in riva Nazario Saure che vuole raccontare la qualità e l'unicità del pesce azzurro del Mediterraneo mettendo a disposizione dei partecipanti gusto e tradizione e la possibilità di conoscere sapori più particolari del mare siciliano. Sì, la manifestazione della rassegna gastronomica del buon pescato italiano è una rassegna promossa dal Ministero delle Politiche Agricole per promuovere 16 specie ittiche poco conosciute dei nostri mari che però hanno grandi caratteristiche organolettiche. Questi tre giorni, che si articoleranno venerdì, sabato e domenica prevede delle attività di degustazione dalle 18 alle 22 degustazioni, voglio ricordare, gratuite dove il pubblico potrà effettivamente degustare queste specie. In più ci saranno dei cookie show, dei veri e propri corsi di cucina tenuti da chef di tutta Italia che si terranno dalle 17.30 fino alle 22. Ovviamente per questo dovranno registrarsi gli stand che sono presenti qui a Riva Nazario Sauro per poter seguire i corsi. In più ci sarà una ricca appuntamenti per quanto riguarda tavole rotonde, convegni e workshop. Assolutamente, Siracusa in questa tappa diventa anche un'occasione importante per conoscere qual è il nostro buon pescato e tutti i principi sostanzialmente anche da un punto di vista alimentare quello che contengo. E' evidente che Siracusa anche su questo diventa una tappa fondamentale e un'attenzione importante del Ministero. Ci siamo battuti per avere questa tappa che ha un richiamo nazionale importante. Come vedete è tutto bellissimo e fatto ad altissimo livello con il coinvolgimento anche del nostro alberghiero siracusano ed è qualcosa di veramente importante. Speriamo, l'auspicio, che ci siano diverse occasioni per poter promuovere questo tipo di tappe sul territorio siracusano. Un'occasione anche per focalizzare l'unicità dei prodotti all'interno di un disegno di promozione che tende a rendere riconoscibile un pescato che sempre più permette alla produzione locale di espandersi in Europa e non soltanto. Noi siamo molto lieti di ospitare questa manifestazione che ha un carattere nazionale patrocinata dal Ministero dell'Agricoltura e della Pesca. Siamo una città di mare, dobbiamo riscoprire questa identità perché il mare è una grande risorsa per noi. Lo è sia sotto il profilo turistico sia sotto il profilo economico. Noi abbiamo una nostra piccola marineria che ha una sua storia, dignità che naturalmente deve essere sostenuta nelle attività. Abbiamo questa esperienza splendida della riserva naturale del Plemirio che ci sta dimostrando che se si attuano buone pratiche da un punto di vista del rispetto ambientale c'è un ripopolamento della fauna ittica importantissimo e questo è il segnale che il nostro mare può ospitare ancora. Quantità e qualità di pesce è importante naturalmente. Questo è importante sotto il profilo ambientale, lo è anche da un punto di vista economico, per le attività produttive in generale, per l'attività di ristorazione, per tutte le attività legate anche ai consumi delle famiglie. Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Informare. Informare che oggi vuole puntare l'attenzione ai riflettori su un argomento che si può dire da tavola, ma non solo, è anche per la nostra salute. Del resto vi sarete accorti, andando in Ortigia, che c'è davvero un gran fermento, soprattutto con presenza di stand, con presenza anche di caravan e quant'altro, per veicolare il consumo del pesce azzurro, ma anche come mezzo di sviluppo, e vedremo anche in che termini, con i nostri ospiti che andiamo subito a incontrare, a inquadrare quindi con le nostre telecamere. Eccoli qua. Innanzitutto, alla vostra sinistra, alla vostra sinistra dei teleschermi, il dottor Sami Ben Abdelali, se ho detto male, mi corregga, e il dirigente della cooperazione Regione Sicilia. Buonasera. Buonasera. E a fianco a me, quindi al centro dei teleschermi, Paolo Giarletta, che è responsabile del progetto Buon Pescato Italiano. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, cominciamo proprio con il dottor Giarletta. Questa è un'ultima tappa, si diceva, Siracusa, di un viaggio abbastanza articolato che ha toccato le coste italiane, non soltanto siciliane. Sì, è un tour che ha avuto inizio l'11 febbraio di quest'anno, da Belluno, quindi siamo sotto la neve. È un tour organizzato e promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca Marittima, per promuovere e valorizzare delle specifiche poco note, quello che viene definito, purtroppo, pesce povero, ma che povero poi non è. Sono 16 specifiche, quelle che si trovano nei nostri mari, e che il Ministero ha voluto, ovviamente, mettere all'attenzione del pubblico, dei consumatori, ma non solo, ma soprattutto nel mondo della ristorazione, che ovviamente sempre di più deve utilizzare queste specifiche per valorizzarle, che però non vengono richieste nel menu, non vengono proposte nel menu dei nostri ristoratori, e che però invece potrebbero veramente fare la gioia di tutti. È un tour che ha coinvolto 5 regioni, siamo partiti dal Veneto, per scendere poi in Puglia, Campania, Calabria, e abbiamo concluso, alla fine, la Sicilia. Non a caso, la Sicilia, che poi è la prima regione a livello nazionale, in quanto numero di catture delle specifiche che sono oggette nel nostro territorio. Quindi, migliore fine non potevamo farla. È un tour che ha toccato ben 43 città, attraverso il nostro promo track, che è un altro articolato di 16 metri e mezzo, un vero, diciamo, showroom del mare, che consente, attraverso degli audiovisivi, del materiale didattico e quant'altro, di informare appunto su queste specie. Abbiamo ospitato oltre 60.000 persone, oltre 5.000 operatori del settore che hanno, si sono articolati in vari momenti, perché il tour, oltre al promo track, ha, come vediamo appunto nelle immagini, c'è un momento centrale, quello della rassegna gastronomica, che appunto coinvolge in questi tre giorni, 25, 26, 27, Siracusa. È una tre giorni dove all'interno vengono proposte degustazioni delle specie IT, ovviamente, del nostro territorio, vengono realizzate dei cookie show, dei veri e propri laboratori del gusto, delle presentazioni di ricette da parte di chef che provengono da tutto il territorio nazionale, con un'eccellenza rispetto a quella siciliana. E poi, ovviamente, ci sono anche dei momenti di incontro e di confronto, come quello delle scuole che avremo sabato mattina, domani mattina, dove ospiteremo oltre 600 bambini delle scuole elementari e medie, perché uno degli scopi che il Ministero ha voluto raggiungere è quello di convergere giovani e generazioni, che ahimè, purtroppo conoscono solo i bastoncini, quelli surgelati, e non, ovviamente, i prodotti, diciamo, del nostro territorio. Quindi, ecco, queste sono le finalità, sperando che Siracusa, come nelle altre quattro tappe che abbiamo avuto, quella Treviso, Bari, Salerno e Cariari, possa rispondere allo stesso modo. Il tempo già è a favore, quindi, insomma, bene o male, gioca davvero da buon amico. Ecco, dottor Sami, la Regione Sicilia ha deciso di sposare questo progetto e di portarlo avanti, in che termine? Questo progetto è un modello, comunque, per non soltanto in Sicilia, ma per tutta l'Italia, che tratta un argomento nobile, quello del pescato, delle tipologie povere, chiamiamole così, questo pescato povero dei nostri mari. La Sicilia ha sostenuto e ha consolidato questo progetto, in quanto progetto leader, almeno, di quello che abbiamo, dico, vissuto negli ultimi anni, dove sottolineavo, anche stamattina, dico, nel momento di apertura, che i fondi europei, finalmente, le vediamo spesi bene, e gli organizzatori di questo progetto l'hanno veramente spesi bene, perché abbiamo visto un'attività e una visibilità che fa sì che la Sicilia torni al centro dell'Italia e il centro dell'attenzione del mondo, del mondo marittimo, soprattutto. È un argomento nobile, quello che è stato trattato, dove si promuove il pescato povero, chiamiamolo così, ma i poveri siamo noi, che non sappiamo il valore, non conosciamo il valore di questo pesce eccezionale, che ha, stesse, e anche supera, alcune volte, valori nutritivi del pesce, quello usato, quello utilizzato e anche consumato nei ristoranti, anche sulle nostre tavole, dicono, nelle nostre proprie case. Quindi, la Sicilia non può non sostenere questo progetto e spero che, parlando con gli organizzatori, fino a stamattina con il dottor Paolo, parlavamo di continuare questa azione per l'anno prossimo e per i prossimi anni in tutte le regioni d'Italia e in tutte le piazze italiane, perché portare questo progetto nel territorio, quindi farlo sposare alla comunità, è una cosa molto importante che bisogna realmente sostenere. Adesso abbiamo visto anche il taglio del nastro, con il sim, con il carozzo, la sessore Moschella ed altri, ecco, chi viene a visitare questo stand cosa trova? Cosa trova? All'interno del promo track? All'interno del promo track, sì, diciamo che è un programma molto fitto, come dicevo prima. Diciamo che il pubblico potrà accedere al nostro villaggio, perché è un vero e proprio villaggio di oltre 1200 metri quadrati, sono circa 32 stand che, in fondo, ospita questi momenti degustativi. Le persone potranno venire lì dalle 18 del pomeriggio, censirsi e poter degustare immediatamente attraverso un percorso guidato delle eccellenze, noi le chiamiamo, dei nostri mari, per prendere questi piatti. Voglio dire, è un ingresso gratuito, quindi aperto a tutti, proprio perché trattasi di un progetto comunitario, un progetto del Ministero. Ovviamente, al Pesce abbiamo abbinato anche delle altre eccellenze del territorio. Basta pensare che abbiamo coinvolto tutti i consorzi di valorizzazione nel territorio siracusano, c'è il consorzio del pomodoro pacchino, c'è il consorzio del limone siracusano IGP, abbiamo tutti i consorzi di valorizzazione diciamo degli oli, per non finire anche dei prodotti dolciari, abbiamo il cioccolato di modica e tant'altro. Quindi diciamo che è un momento veramente del territorio, del territorio siciliano che si esprime in tutte le sue eccellenze. Il pesce diventa l'elemento centrale, ma intorno a questo abbiamo costruito un modello di valorizzazione davvero molto ricco. Quindi le persone potranno dalle 6 fino alle 10 nel giornale di venerdì, sabro e domenica poter venire al villaggio e quindi degustare. Non voglio dimenticare anche il mondo vinicolo e oleare che sono i due prodotti che meglio si sposano con il pesce. Infatti abbiamo i migliori vini del territorio siracusano e che quindi potranno essere degustati anche in questa occasione. Dottore, quanto il produttore locale ma soprattutto parliamo di ristorazione quanto il ristoratore locale valorizza il prodotto locale? Cioè c'è ancora questa ritrosia nel lanciarsi, a proporre anche nelle tavole mandite anche i prodotti locali? Purtroppo questo prodotto non viene valorizzato nei locali anche nelle nostre case perché noi tentiamo sempre di utilizzare sempre il pesce migliore che sicuramente un pesce povero il pesce azzurro questa tipologia di pesce di pescato ha valori nutritivi migliori. I ristoranti promuovono i dentici, promuovono la cernia, promuovono le aragoste ma dimenticano che c'è veramente il gusto. Infatti l'argomento del buon pescato italiano è tipico, quello che faccio vedere dico ai nostri spettatori perché faccio promozione di questo progetto leader è tipico perché parte dal nostro territorio dal nostro mare questo mare che ci unisce fresco perché il pesce azzurro poi utilizzato fresco ha un sapore unico e sano perché fa bene la salute. Quindi ci sono i tre fattori importanti per far sì che a tavola devono esistere e devono trovarsi questa tipologia di pesce. Bisogna promuoverlo con azione grazie anche a questo progetto con iniziative del genere così bisogna promuoverlo nelle tavole dei siciliani bisogna promuoverlo attraverso la scuola che domani avremo la partecipazione di diversi istituti diverse scuole elementari e medie all'interno del nostro villaggio io dico il nostro scusami Paolo perché abbiamo sposato realmente con convinzione questo progetto quindi bisogna far visitare tutti quanti io invito tutti i nostri cittadini siracusani e tutti siciliani a visitare questo villaggio perché è da lì che partiamo a educare i nostri figli come si mangia a tavola si mangia bene si mangia in maniera sana e si risparmia perché in un contesto di crisi economica attuale bisogna anche pensare alla tasca quindi si spende poco ma si mangia bene ugualmente risparmiando diverse scuole con malori nutrizionali altrettanto ottimi insomma non c'è dubbio in questo vostro giro per l'Italia avete adesso c'è un po' da raccontare avete riscontrato delle particolarità degli anelli di qualcosa che vi ha fatto pensare forse siamo sulla giusta rotta che così vuol dire sì sì infatti ecco quando dicevo prima quei numeri che ho detto prima che oltre 60.000 persone l'incontro con le scuole è quello forse l'aspetto più importante per noi perché il riscontro che abbiamo avuto da questi bambini perché hanno partecipato anche a un concorso che si chiama Piccoli ma Buoni era un modo per coinvolgerli motivarli e vedere che loro erano così felici di poter raccontare il mare di vedere un pesce sciabola di vedere dei prodotti che forse loro non immaginavano nemmeno nell'esistenza perché non avevano avuto proprio la possibilità di conoscere è stato il momento forse più bello del nostro percorso e tant'è vero anche l'entusiasmo delle insegnanti delle famiglie che sono venute e hanno partecipato a questi nostri eventi è stata forse la conferma che eravamo sulla rotta giusta come giustamente diceva lei perché quando si va sul territorio quando si ha un contatto diretto con il mondo del consumatore con il mondo della ristorazione ecco si capisce che probabilmente c'è fame di informazione c'è fame di conoscenza purtroppo noi siamo legati a dei modelli si parlava prima del sushi si parlava di prodotti che purtroppo hanno in baso non voglio assolutamente criticare un loro mercato ma che non rappresentano certamente la nostra tradizione e la nostra gastronomia quindi se riusciamo attraverso queste iniziative ed è questa la conferma che abbiamo avuto con questo nostro tour con questa forte partecipazione riusciremo forse a dare una piccola spinta anche al mondo della distribuzione commerciale al mondo della distribuzione a proporre questi prodotti perché se la massaia entra in una pescheria e chiede il pesce sciabola il sugarello o il palamita probabilmente costringe fra virgolette il commerciante a proporlo e questo forse è il modo più corretto per fare informazioni Ecco dottore approfitto anche della sua carica che rapporto si è instaurato tra l'istituzione regione e i pescatori insomma gli armatori e quindi di conseguenza anche chi fa pesca io lo dico la verità mi esprimo in tal senso il settore della pesca in Sicilia in generale vive un momento di crisi molto accentuale la regione Sicilia sta dando un po' di sopporto e adesso stiamo cercando di trovare sempre un aiuto diverso per gli armatori per i nostri pescatori in generale perché con i costi della manodopera i costi vivi che affronta in generale è un po' di sopporto